Si discute ormai da qualche giorno della sempre più probabile chiusura a livello nazionale degli impianti sciistici per il periodo delle vacanze natalizie, misura presa in considerazione per scongiolare un turismo invernale incontrollato che potrebbe avere ricadute importanti sui numeri della pandemia. L'ipotesi di questo nuovo stop non trova il favore dei gestori delle stazioni e dei sindaci dei comuni interessati, i quali, sottolineando l'importanza primaria di salute e sicurezza, non nascondono allo stesso tempo i timori per un'economia locale sempre più provata dalla crisi generata dal Covid. Tenere chiusa la stazione per il secondo anno consecutivo, perché non dimentichiamoci che l'anno scorso, il momento proprio che è nevicato e quindi avevamo una bella neve, era proprio il periodo del Covid e noi siamo stati chiusi, come tutte le stazioni delle Marche. E quindi questo purtroppo è un danno enorme per i dipendenti, per tutto l'indotto che nel nostro territorio vive, grazie alla montagna, grazie allo sci e non solo, perché la nostra montagna, come ben sapete, è aperta tutto l'anno. Speriamo che questa eventualità che paventano sia un attimino rivista, perché a nostro avviso è un pochino assurdo pensare che riaprano i centri commerciali fino alle 22, i ristoranti e non una stazione montana che è praticamente all'aperto. Vero è che si possono creare le code per salire, poi nel nostro caso abbiamo l'impianto di arroccamento, però sarebbe facilmente gestibile mantenendo un distanziamento nelle cabinovia, nella stazione di partenza della cabinovia e anche nella stazione di arrivo. Per il resto sarebbe tutto molto più semplice, perché noi abbiamo due seggiovie, quindi nelle seggiovie possono salire due persone distanziate di un metro con la mascherina all'aperto. Non siamo certamente coloro che dicono aperti a tutti i costi, assolutamente no, prima viene la salute e nel nostro caso si potrebbe tranquillamente tutelare il distanziamento. Teniamo conto che noi per quest'anno avevamo una bella aspettativa, perché siamo in grado di riaprire le piste vecchie che abbiamo messo in sicurezza, quindi sistemate, nuove, con la nuova seggiovia quadriposto che ci permetterà per la prima volta di sciare da 1250 metri a 1500 metri. Sicuramente c'è stata una battuta d'arresto importante per l'economia appunto legata all'arrivo di turisti e questa sarebbe un ulteriore danno che ricadrebbe su tutto il comprensorio del Monte Carpegna e quindi soprattutto sui comuni di Monte Copiolo e di Carpegna. Ho fiducia che verrà presa la decisione più giusta e ho fiducia che se veramente rimarranno chiusi verranno erogati dei ristori a quelle persone che hanno subito un danno economico dalla chiusura. Comunque sappiamo benissimo che quando si aprono gli impianti nel nostro comune si crea un indotto turistico che non si ferma di certo a Monte Copiolo ma si allarga a tanti comuni vicini. Personalmente sono totalmente contrario a questa decisione e così come lo sono stato per bar e ristoranti ho scritto anche una lettera di richiesta per comunque far presente che le nostre realtà montane, bar, ristoranti e in questo caso impianti di risolita sono completamente diverse rispetto alle altre situazioni soprattutto a livello numerico. Parlando della nostra realtà abbiamo impianti completamente all'aria aperta perché sono seggiovie, ski lift o tappeti. posso capire la preoccupazione in ovovie o funivie che comunque reputo controllabile. Ci sono realtà completamente diverse e queste normative da applicare su tutto quanto il territorio sicuramente portano tanta sofferenza dove già l'economia non va a gonfie vele.